buongiorno venerdì 19 marzo 2021 questa è fano tv sul canale 17 del digitale terrestre questa e occhio ai giornali la rassegna stampa il commento alla stampa del giorno che comincia come sempre con il santo di oggi oggi è la solennità di san giuseppe san giuseppe sposo della beata vergine maria uomo giusto nato dalla stirpe di davide fece da padre al figlio di dio vero gesù cristo che volle essere chiamato figlio di giuseppe ed essergli sottomesso come un figlio al padre la chiesa con speciale onore lo venera come patrono posto dal signora custodia della sua famiglia e di tutte le sante famiglie che salutiamo famiglie papà mamma e figli allora andiamo adesso a vedere il tempo c'è ancora un po di perturbazione soprattutto sul nord della regione nella notte ancora qualche nevicata sui sulle colline qualche pioggia che poi si è trasformata subito in gelo perché le temperature sono molto basse quindi facciamo attenzione soprattutto nelle primissime ore che questa mattina se uscite in strada perché nell'acqua della pioggia ha gelato si è gelata e quindi fate molta molta attenzione questa è la previsione invece del pomeriggio sempre da trebimeteo.com vedete ancora un po di neve sulla parte meridionale della regione poi da ancona macerata scolipiceno l'entroterra interessato da qualche piovasco la notte invece i fenomeni cesseranno ma nella giornata di sabato invece la mattinata la mattinata di domani andiamo a vedere la cartina geografica ancora con la parte meridionale della regione centro meridionale della regione interessata da pioggia e così come nel pomeriggio mentre la settentrione si viene in qualche modo risparmiato ma è nella nottata nella serata di domani che vedete il maltempo interesserà ancora tutta la nostra regione la simbologia vi dà subito l'idea di quello che accadrà con il limite anche delle nevicate siamo ancora interessati da aria fredda e quindi da possibili nevicate fin in collina la notizia del giorno cari telespettatori è questa si riparte con il vaccino astrazeneca dunque era previsto inevitabile ci sono adesso dei ritardi da colmare nelle marche si riparte già da domani si cercherà di tornare a regime entro la fine del mese ci sono degli appuntamenti evidentemente che sono saltati quando è stato bloccato il vaccino in tutta italia adesso dunque l'EMA ha dato l'ok vedremo nel dettaglio perché ha detto che il vaccino di astrazeneca anglo-svedese è sicuro lo vedremo tra poco intanto andiamo a vedere i titoli delle prime pagine in questo caso corriere adriatico edizione di pesaro astrazeneca si riparte dopo l'attesa via libera dell'EMA da domani pomeriggio nelle marche riprendono le vaccinazioni la conferma del dell'assessore regionale salta martini a pesaro i primi tre pazienti trattati con gli anticorpi monoclonale centro pagine invece monaldi chiuso anziani fuori protesta dopo la scoperta mancini il l'allenatore della nazionale di calcio italiana le marche hanno tutto per ripartire ieri mattina a palazzo raffaello roberto mancini ha fermato l'accordo che lega la sua immagine alla promozione turistica della regione fino al 2023 poi la cronaca il falso ispettore che a pesaro truffava e derubava coppie in pensione e poi non versava i bolli per la regione un tabaccaio tre anni è stato condannato a tre anni e a valle foglia truffi è sepolto ad amburgo e il mistero resta appalti truccati coinvolta una cooperativa di torraccia parliamo della inchiesta sulle ambulanze quattro arresti per questa inchiesta partita da pavia le indagini della finanza sulla società first aid andiamo a vedere adesso il resto del cardino vaccini si ricomincia ecco le date astrazeneca ok domani si riparte con la somministrazione saltamartini dice entro luglio 900 mila protetti la festa del 19 marzo poi strade animali il caso si legate finisce anche in parlamento e a centro pagina fotonotizia la nuova speranza monoclonali via la sperimentazione il nostro viaggio all'ospedale intanto il campanello d'allarme con i contagi che arrivano a toccare quota 230 nella provincia di peso rubino ma vedremo tra poco anche in chiusura di rassegna stampa 300 anni fa moriva il papa urbinate clemente undicesimo ovvero giovane francesco albani che segnò i destini d'italia e europa e adesso la pagina invece velocemente del carlino di ancona il giorno del dolore il sindaco mancinelli rimaniamo uniti dice ma rispettate le regole e presto con le vaccinazioni ricordo di chi è finito all'ospedale di torrette con la famiglia medici come angeli custodi e poi vaccini ecco le date per recuperare e allora entriamo nelle pagine dei giornali cominciamo dal carlino nazionale astrazeneca ok dall'ema sicuro ed efficace solo 25 casi sospetti su 20 milioni di dosi dice la direttrice dell'agenzia del farmaco europea emercuc di 59 anni i rischi dunque potremmo dire sono minori rispetto ai benefici e il vaccino non è associato ad un aumento di eventi trombolici scrive alessandro farruggia sul carlino di questa mattina riportando le parole appunto della direttrice e della commissione di sicurezza dell'ente che non ha trovato dunque alcuna prova di problemi di qualità sui lotti mezza Europa possiamo dire così tira un sospiro di sollievo la Francia ha fatto ripartire le vaccinazioni già da ieri l'Italia e la Germania lo faranno da oggi la Spagna da martedì mentre Svezia e Norvegia mantengono il blocco ad astrazeneca e dicono almeno fino a quando non avremo un quadro completo della situazione gli altri 14 stati europei che avevano fermato il vaccino invece decideranno nei prossimi giorni intanto Boris Johnson sapete astrazeneca è un farmaco prodotto da una casa farmaceutica inglese e svedese ebbene Boris Johnson dice è tutto in regola intanto ha ribadito l'importanza di non fermare le iniezioni e ha detto anche che oggi si vaccinerà proprio con astrazeneca e la procura di Catania che cosa dice non c'è un nesso con i decessi e soprattutto il riferimento alla morte del poliziotto Davide Villa la procura di Catania non ha rilevato elementi che consentano di ipotizzare che gli eventi sui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell'utilizzo del vaccino di astrazeneca tra l'altro il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro che vedete nella fotografia ha detto noi siamo convinti di questo vaccino la maggioranza dei magistrati di questo ufficio infatti si è vaccinato con astrazeneca e dagli Stati Uniti invece gli Stati Uniti che hanno già il loro vaccino quindi non hanno bisogno in questo momento di altre cose e quindi hanno però avevano prenotato astrazeneca e cosa succede? Succede che 4 milioni di dosi di questo vaccino li presteranno al Messico e al Canada che in questo momento sono sprovvisti poi quando il Messico avrà le sue 2 milioni e mezzo di dosi e il Canada ne riceverà un milione e mezzo così come previsto li restituiranno agli Stati Uniti insomma questa è la situazione ora c'è da segnalare in questo articolo anche il fatto che EMA sempre EMA ha detto che comunque continuerà a controllare giorno per giorno tutto quello che succederà sarà molto scrupoloso, molto attento, in particolare nelle donne che hanno meno di 55 anni si cercherà di capire qualcosa di più, per esempio se vietarlo a queste donne con meno di 55 anni che prendono la pillola oppure che sono fumatrici sono due categorie genericamente ad aumento rischio coaguli del sangue però, ripeto, l'EMA ha promesso che indagherà con molta attenzione ma indagherà anche oltre su AstraZeneca anche sui vaccini Pfizer e Moderna che mostrano casi anche superiori di reazioni avverse ma molto basse rispetto appunto a quelle di AstraZeneca andiamo a leggere adesso il Corriere Adriatico il titolo di questo articolo di Martina Marinangeli è via libera su AstraZeneca punti vaccinali potenziati per chi è rimasto indietro da domani nelle marche riparte dunque la somministrazione delle dosi entro la fine di marzo si tornerà a regime procedono anche i richiami con Pfizer dunque per quanto riguarda le marche sono stati predisposti gli elenchi di coloro a cui nei giorni scorsi era stato sospeso l'appuntamento con il vaccino saranno contattati, tutte queste persone saranno contattate telefonicamente a partire già da oggi quindi attenzione, dagli operatori che forniranno loro indicazioni riguardo al giorno, al luogo e all'orario del nuovo appuntamento per la somministrazione quindi oggi potrebbe arrivare per tutti coloro che nei giorni scorsi dovevano fare il vaccino anche e soprattutto di AstraZeneca ecco arriveranno queste telefonate nelle quali verrà dato questo nuovo appuntamento e quindi si può ripartire e naturalmente adesso bisognerà andare velocemente addirittura si parlava di fare i vaccini giorno e notte quasi H24 proprio per dare una accelerata alla tabella di marcia si riparte alle 15, chi rifiuta finisce ultimo titolo un po' minaccioso del resto del Carlino questa mattina pagina 4, siamo sempre sul nazionale per recuperare 5.000 farmacisti in campo verranno presi il 10-15% degli appuntamenti in più per colmare il ritardo dovuto allo stop e fronteggiare anche eventuali rinunce perché chiaramente adesso non aspettiamoci che le telefonate che arriveranno oggi pomeriggio dall'altra parte del telefono ci siano persone tutte contente di fare il vaccino AstraZeneca quindi probabilmente qualcuno ormai avrà detto non lo faccio e non lo farò mai e quindi di conseguenza bisognerà rimpiazzare queste persone con i famosi riservisti insomma, certamente in queste ore tutti coloro che dovranno fare questo vaccino avranno di che pensare quindi bisogna stare con i piedi per terra ma soprattutto non farsi prendere dalla paura e bisogna anche un po' fidarsi perché altrimenti coi sospetti, coi seco ma non si va da nessuna parte quindi a un certo punto bisognerà anche prenderla così come viene insomma questo abbiamo e queste sono le armi che ci mettono a disposizione intanto i pazienti in aumento sono i pazienti sono in aumento nelle rinanimazioni per quanto riguarda le regioni oggi è venerdì quindi si deciderà sulla colorazione ma non credo che ci siano dei cambi di colore in vista le Marche avranno un'altra settimana in zona rossa e intanto a pagina 5 del Carlino di Pesaro anche qui domani si riparterà con AstraZeneca appuntamenti saltati come recuperarli da oggi saranno contattate le persone a cui è stata rinviata la somministrazione sarà effettuata una nuova prenotazione i sindacati chiedono all'azienda di rafforzare il personale invece di Marche Nord perché? perché come dicevamo anche ieri questo repentino aumento dei ricoverati al San Salvatore di Pesaro per la recrudescenza di questa pandemia presumibilmente almeno 180 unità negli ultimi giorni ha creato ulteriori problemi ai dipendenti di Marche Nord i sindacati hanno chiesto un incontro con i vertici aziendali che si terrà martedì prossimo ci sono anche a pagina 3 vi segnalo quindi se volete andare in edicola potete andare in edicola perché si può uscire per andare in edicola a prendere e a comprare il giornale a pagina 3 del Corriere Adriatico ci sono le domande e le risposte sono tutte domande che ci poniamo e risposte che bene o male sappiamo già perché ce le siamo dette e ridette però fa sempre bene una ripassatina ci sono domande importanti per esempio su quali sono i vaccini anti-Covid autorizzati in Italia se i vaccini sono sicuri se sarà obbligatorio vaccinarsi le persone che hanno avuto il Covid possono vaccinarsi possiamo dare questa risposta per esempio sì purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa quindi in questo arco di tempo quanto deve passare per essere protetto dal Covid con i vaccini e qui chiaramente la risposta fa riferimento ai vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca che sono quei 3 che attualmente abbiamo a disposizione poi arriverà anche quello della Johnson & Johnson quante dosi devono essere utilizzate servono per essere immunizzate abbiamo detto che Pfizer, Moderna e AstraZeneca hanno bisogno di due dosi quindi c'è anche il richiamo mentre l'altro, quello che ancora deve arrivare ne avrà bisogno di soltanto di una iniezione è previsto un rilascio di un certificato vaccinale sicuramente sarà rilasciata una certificazione normale di avvenuta vaccinazione anche se c'è la proposta come abbiamo visto anche ieri di un certificato internazionale digitale la famosa tessera per poter viaggiare e poi questa è importante una persona vaccinata deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus sì, una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione perché non è ancora noto ed è questa non è ancora nota se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e o della sua trasmissione ad altre persone quindi su questo nono punto chiaramente ecco qui si nota la debolezza del vaccino non avendo avuto tempo il tempo necessario così come avviene con i normali vaccini quindi di sperimentare di avere tutti i tempi gli anni necessari per vedere quanto dura le sue efficaci eccetera eccetera qui essendo andati tutti di corsa chiaramente questo è un punto un po' cosiddetto dolente del vaccino perché? perché non sappiamo effettivamente fino in fondo come stanno le cose però ripeto essendo una situazione particolare e trovandoci in una situazione quasi emergenziale di guerra abbiamo bisogno di accelerare i tempi e quindi una persona vaccinata con una o due dosi deve comunque continuare ad osservare tutte le misure come se non l'avesse fatto il vaccino in pratica per essere sicuri di non contagiare e di contagiarsi anticorpi monoclonali questa è una notizia che sempre dai giornali locali a pagina 4 del Corriere Adriatico sono partiti da Marche Nord quindi dal San Salvatore ci sono già tre pazienti in cura a Pesaro la terapia è stata effettuata su dei genti positivi che hanno subito un trapianto l'AIFA ha dato l'ok al progetto di sperimentazione nelle Marche ci sono 133 flaconi dunque è stata avviata già dalla giornata di ieri la profilasse anti-Covid con questi anticorpi monoclonali per frenare la malattia ma lo ricordiamo ai primi stadi di questa malattia cioè i primi sintomi e prevenire ovviamente i ricoveri e tutto questo serve come abbiamo visto e questo lo dimostra il fatto che siano tre pazienti positivi ma che hanno avuto che hanno patologie che hanno problemi non indifferenti come un trapianto per esempio eccetera eccetera ecco sono persone questi monoclonali vengono fatti e soltanto somministrate persone che comunque sono nella prima fase ma hanno anche problemi che potrebbero portarli poi in rianimazione e oltre intanto sempre dal Corriere 139 pazienti in rianimazione vedete come sono in aumento eravamo qualche settimana fa fermi a 80 70-80 siamo già a 139 anche i ricoveri non si fermano dunque aumentano gli accessi al pronto soccorso anche nelle province di Ascoli è fermo resta sempre alto il numero dei contagi nelle Marche 820 positivi nella giornata di ieri 319 soltanto ad Ancona Pesaro poco più di 200 intanto il Monaldi che è il centro individuato inizialmente a Pesaro per la somministrazione dei vaccini era chiuso sbarrato ma si sono dimenticati di avvisare gli anziani chiuso il centro vaccinale la protesta degli accompagnatori vergogna Lauser di Gradare dice la seconda volta vogliamo sapere cosa succede intanto sulla pagina 9 sempre del Corriere vaccini la campagna riparte i medici di famiglia in attesa i dottori stanno ancora aspettando i chiarimenti sul loro ruolo intanto bandiere a mezzasta simbolo del dolore ieri anche il Comune di Pesaro ha partecipato simbolicamente appunto con la bandiera a mezzasta alla giornata nazionale del ricordo ambulanze cambiamo argomento giro d'appalti truccati è coinvolta anche una cop con sede a Pesaro quattro arresti per l'inchiesta della finanza partita da Pavia la società e la first aid di Torraccia appalto truccato per il trasporto in ambulanza salari a ribasso offerta sotto la soglia minima delle tariffe regionali con queste accuse i finanzieri hanno operato quattro arresti tra cui quelli di due amministratori della cooperativa appunto coinvolta c'è un processo invece a Pesaro un falso ispettore con il laser derubava coppie di anziani l'uomo raggirava i pensionati diceva proteggo io il vostro oro ma i gioielli poi sparivano dal Piemonte in città fino a Pesaro per mettere a segno le truffe è stato individuato fermato condannato a tre anni e otto mesi dalle marche abbiamo visto Mancini l'allenatore di calcio sponsor lui è di Iesi lo sapete sponsor delle marche abbiamo tutto per ripartire il mister dell'anzionale testimonial della promozione turistica fino al 2023 l'accordo è firmato ieri in regione Camera di commercio partner dell'iniziativa a Piobbico Piobbico in lutto per Piero Mocchi a 88 anni muore a causa del Covid una delle figure più rappresentative del nostro introterra ed è c'è tutto intorno alle 23 dell'altra sera a San Salvatore di Pesaro Pietro Mocchi da tutti conosciuti come Piero a maggio avrebbe compiuto 88 anni molto conosciuto figlio di una storica famiglia e padre di Giorgio sindaco per 15 anni di Piobbico e Piero era un riferimento per l'introterra alcuni lo definivano la quercia oltre che per la sua statura e postanza fisica per i suoi per i principi che ne caratterizzavano la forza morale del suo legame radicato come una quercia con il territorio i funerali si terranno domani mattina alle ore 10 nella chiesa di Santo Stefano a Piobbico andiamo adesso invece sull'altra pagina pagina 13 del Corriere il tabaccaio che non versa i soldi incassati dai bolli i bolli dell'auto condannato a tre anni per peculato all'esercente non è bastato restituire nel frattempo la somma che doveva essere destinata alla regione insomma bolli riscossi per circa 2000 euro ma mai versati alla regione e è arrivata adesso la condanna per il tabaccaio il reato non è dei più leggeri quello di peculato punibile fino a 10 anni di reclusione intanto torniamo un attimo indietro su questa pagina del Corriere Adriatico perché i no mask tornano in piazza cioè quelli che non vogliono portare la mascherina annunciano per domani dalle ore 15 il World Wide Rally in simultanea con altre città a Fano invece sopralluogo a Palazzo Zagarelli per il primo lotto 850 mila euro lavori conclusi entro l'estate la fondazione avverte i prossimi step legati alle condizioni finanziarie mentre sotto vallate del Metauro del Cesano il futuro del turismo sinergie e programmazione l'assessore Lucarelli appoggia scusate la tesi di Bartocetti e di Varotti per le vittime del Covid il bosco della vita il ricordo è la nostra cura e la speranza l'impegno del sindaco nella giornata della memoria il vescovo di Fano Trasarti vice sostegno ai familiari gratitudine agli operatori vedete queste immagini che si riferiscono alla cerimonia con il minuto di silenzio organizzata ieri nel parco polverare di Fano e sotto il vescovo Trasarti che contribuisce a piantumare il primo albero per le vittime Covid in diretta streaming e su Fano TV come ricorda il corriere adriatico a San Costanzo bandiere a menzasta e un minuto di silenzio la pagina di Fano invece del Carlino Palazzo Zagarelli lavori finiti entro l'estate risanamento del tetto e riqualificazione della facciata viaggio nello scrigno delle meraviglie diventerà tra i principali poli della cultura l'antica dimora è stata aperta per mostrarne la bellezza e lo stato dei lavori sotto invece San Pietro in Valle va in Parlamento parte l'interrogazione di Paolini il deputato leghista si rivolge al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini quartieri al setaccio della polizia controllate 150 persone per lustrate anche abitazioni abbandonate per prevenire lo spaccio e i furti una distinta elegante dei modi gentili con un debole per gli oggetti preziosi peccato che approfittando della distrazione dei commessi faceva sparire con destrezza Enrico Bottino Monili ed altri preziosi scegliendo con cure i più costosi e poi si dileguava la donna di 46 anni residente in Romagna è stata arrestata dai poliziotti del locale commissariato coordinati dal dirigente Stefano Seretti la signora dei furti anche qui sul Corriere Adriatico tradita dai gioielli controllata mentre osservava in modo sospetto un'orificeria a suo carico spunta l'accusa di quattro razzie verifica tappeto della polizia denunciata una fanese per favoreggiamento e segnalati tre stranieri a Urbino invece un paziente falso positivo in chirurgia nessuna contaminazione in reparto era uscita ieri la notizia che c'era un positivo in un reparto no covid che era quello di chirurgia in realtà oggi si apprende che era che è un falso positivo era stato trasferito nell'area contumaciale ora in isolamento area vasta 1 l'ospedale esercita la propria funzione scuola in presenza per i figli di sanitari sempre dalla cronaca dalla pagina di Urbino ma questa volta del Carlino parte dalla provincia di Pesurbino l'appello di 259 operatori e sono i medici sono gli infermieri quelli che come abbiamo visto non hanno tempo per tornare a casa nemmeno per andare per dormire per dire insomma e quindi sono stretti tra il lavoro in corsia la cura e la didattica a distanza a casa insomma una vita in questo momento davvero molto complicata per questi 259 operatori della sanità che sono chiamati in prima linea che sono cosiddetti in trincea ma che hanno poi una famiglia quindi hanno dei figli e allora chiedono la scuola in presenza almeno per i figli per i loro figli cioè un modo per togliere qualche pensiero anche alla famiglia ed è una proposta è una lettera che è stata inviata a Mattarella il grido di aiuto di chi da oltre un anno opera in assoluta emergenza per il bene del prossimo Valmetauro bilancio in crescita del 54% la BCC fa un utile di 4 milioni la direttrice Gabriella Mariani direttrice della BCC del Metauro dice la dimostrazione della nostra solidità e del trend positivo mentre sotto sempre da Fossombrone Bocciofi la prima sconfitta di stagione lo stop a Verbagna resta il terzo posto in classifica domani c'è anche una gara casalinga la cronaca dalla Valcesano da Marotta una station wagon che centra un app nel Rondò dipendente comunale rimane incastrato il ferito è stato trasferito a Torrette in ambulanza in Eli ambulanza sottoposto ad Alcol Test il conducente dell'auto un gravissimo incidente ieri pomeriggio in via Sterpettine dove appunto quest'auto station wagon che vedete nella fotografia ha imboccato questa rotatoria e all'uscita centra l'ape del comune di Mondolfo guidato da Franco Boldrighini uno schianto improvviso che ha richiesto l'intervento immediato oltre che del 118 anche dei vigili del fuoco di Fano che hanno proceduto anche ai soccorsi tirando fuori dalle lamiere accartocciate dove si erano incastrate le gambe del conducente è arrivato anche l'elisoccorso il frontale è accaduto intorno alle 17 chiudiamo con questa pagina degli spettacoli a pagina 25 del resto del Carlino 300 anni fa moriva Papa Clemente XI l'urbinate più potente del Settecento si parla di Giovanni Francesco Albani in 21 anni di pontificato fu presente sulla scena politica e culturale in modo profondamente incisivo e con questo prima di salutarvi vi ricordo a proposito di San Giuseppe che oggi in diretta qui sul nostro canale su Fano TV alle ore 16 trasmetteremo in diretta dalla chiesa di Spicello nel comune di Terre Roveresche la messa di San Giuseppe poi questa sera alle 21 vi segnalo esplorare i confini del circolo culturale Bianchini dal titolo John Cage Music of Silence a musica del silenzio grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti arrivederci a musica del silenzio